Io credo che con la vibrazione che deriva dalla frequenza che ci giunge dal sole sia stato possibile riuscire ad arrivare alla vita come la conosciamo noi oggi. È stato possibile mettere insieme un tipo di vibrazione insieme a un'altra perché la vibrazione è un suono. Perché avendo quindi varie vibrazioni messe insieme, queste hanno creato un suono, ovvero il suono di marrenatura e queste poi alla fine si sono riproposte come il verbo di cui si parla anche appunto nella Bibbia. È per questo che in principio era il verbo. Quindi già la divinità Dio aveva pronunciato tramite la vibrazione la parola, il verbo. Grazie. 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 Grazie.